La sconfitta Abbiamo cominciato un po' in sordina ma poi penso che alla lunga siamo tirati fuori, una sconfitta che fa male comunque, eravamo venuti qua con l'obiettivo di centrar punti, soprattutto i tre punti ma è andata come è andata. C'era ammarico, quello si, primo tempo, i primi quarto d'ora abbiamo sofferto un po' loro forza fisica, poi siamo un po' usciti ma al secondo tempo ci abbiamo messo il cuore, comunque abbiamo cercato di ribaltare la partita, siamo riusciti a fare l'1 a 1, poi purtroppo volevamo andare a fare il 2 ma l'abbiamo preso noi, il calcio purtroppo è andata così, ci rifaremo la prossima. Inizieremo subito da martedì a pensare già alla Coppa mercoledì, alzeremo la testa e cercheremo di andare avanti con i nostri obiettivi, fa male aver perso qua ma sicuramente ci teneremo su e col gruppo riusciremo a uscire, sicuramente. A presto!